ciao caro spirito eterno incarnato in un corpo di carne in un corpo fisico ciao io ho già detto però è da quando 15 anni più o meno che incontro persone che non sono vegetariani molti mi hanno detto che è merito mio non è merito mio è merito di chi ha capito però ogni tanto sento e allora per quello ho detto carne sì ma non morte perché ancora mi è capitato io ho fatto dei biglietti da visita e questi biglietti da visita c'è scritto c'ho scritto di guardare i video vado in un negozio c'è la commessa chiedo una cosa l'obiettura visita faccio dei video sono vegano e uno mi fa a me piace la carne io ho detto anche a me la carne sì ma non morta a quello mi guarda morta tu in che senso hai detto mi piace la carne è che la mangio è morta cioè tu mangi la carne che una volta era viva e apparteneva a un essere vivente a cui è stata sottratta con la carne quella carne sottratta con la violenza e poi conservata con i conservanti e poi è cotta o cruda come la vuoi tu no? come la vuoi tu quindi io ho detto a me piace la carne ma viva allora cappeva poi cappeva no? quell'altro invece aveva sentito cosa ha detto allora proprio recentemente mi è successa la stessa scena vado in un negozio chiedo una cosa c'era do un obiettivo da visita c'è la mia foto con scritto guarda i miei video su youtube te lo faccio vedere sto biettivo da visita mettiamo l'immagine io ho detto non mangio siamo vegano e un altro non ha detto neanche la carne a me piace la ciccia la ciccia era chiamata allora io ho detto la ciccia è buona solo quando è viva non sottrarre la ciccia ad altri corpi per metterla cotta nel tuo corpo sembra che parlassi di stregoneria di diavoleria quello che fai come sottrarre la ciccia a un corpo vivo per metterla morta nel mio corpo è quello che fai quello che fanno sottraggono con la violenza la ciccia che piace a te da un corpo vivo la sottraggono la prelevano la strappano la tagliano la macellano e tu la cuoci per metterla nel tuo corpo vivo dove la ciccia è viva quindi è una violenza un furto un esproprio una una cosa tremenda no? ma come guarda come se parlassi di mostri no? allora il messaggio è carne sì ma non morta viva la carne viva spesso quando una persona ha qualche chilo in più cosa si dice? che è in carne vabbè ma non c'è una cosa gliene tagliamo un pezzo e ce lo mangiamo no? quindi la carne va bene sembra che io sia contro la carne no? io sono contro il consumo di carne morta che nasce da una violenza organizzata su esseri viventi che hanno un corpo di carne io mi auguro che tu abbia capito di cosa sto parlando no? stiamo carne viva la carne viva la carne viva carne sì ma non morta basta riflettere sui vari passaggi e su quelli che dicono ah ma non l'ho mica ammazzata io e vabbè ma allora ci sono i capi i dittatori i violenti che fisicamente non ammassano ma mandano altri a commettere crimini stupri violenti che vuol dire? si chiama il mandante il mandante non è innocente soprattutto se è una questione organizzata e quelli che mi dicono che queste aziende creano posti di lavoro beh ma allora anche le guerre creano posti di lavoro cosa vuol dire? anche le invasioni quella che è stata chiamata colonizzazione del pianeta terra cos'è? creiamo posti di lavoro invadendo un altro stato un altro continente un altro popolo un'altra cultura carne sì ma non morta grazie per la tua attenzione ti ricordo che ci sono tanti video su questo canale ti auguro il meglio della vita grazie per la tua attenzione grazie per la tua attenzione grazie per la tua attenzione